Ciao amici di Youtube, un video velocissimo, istantaneo, solo per dirvi, per chiedervi scusa anticipatamente se nei prossimi giorni, cioè da domani sera a lunedì o martedì, insomma vi vedrete pubblicati sul mio canale tre video di seguito, oltre a questo che sto girando, ma questo è solamente per dirvelo, perché ho sopraggiunto un problema tecnico, devo liberare assolutamente dello spazio per sostituire un'apparecchiatura, insomma, problemi tecnici e quindi mi trovo costretto a pubblicare in maniera forse un po' troppo repentina tre video che avevo già preparato per la rubrica, per la playlist che ho creato Moreno in Action, quindi saranno dei video d'azione, sono tre video molto belli che mi auguro serviranno a molti di voi, fumatori di pipa, lenti fumatori italiani e sono tre video a cui tengo molto, sono tre video, tre puntate, una di seguito all'altra, di una ventina di minuti circa e mi scuso appunto se non avrete il tempo bene di visionarle tutti e ne vedrete già pubblicata un'altra, però appunto è un problema tecnico. Comunque sono dei video a cui tengo molto e mi auguro serviranno a sviluppare anche in Italia, come succede in America e in Inghilterra, una comunità attiva e rispettosa tra di loro, tra di di noi, di lenti fumatori, di pipa italiani e mi auguro appunto rimarranno come archivio permanente, archivio permanente che è YouTube, che è il servizio di YouTube, mi auguro vi piaceranno e... e niente, volevo soltanto dirvi questo, appunto cambierà la cadenza, di solito pubblico due video a settimana, barra tre, con rara eccezioni tre e mi vedrete, mi trovo costretto a pubblicarne tre, quattro, compreso questo vlog, nel giro di pochi giorni. Buona visione a tutti e a presto da Moreno, ciao ciao!